Ciao Carmelina, allora io ho fatto il vaccino su consiglio di tre medici. Questo vaccino mi ha fatto star molto male. Adesso praticamente da venerdì che non sto in piedi, stamattina non sto in piedi per stanchezze, per una sorta di affanno, come se avessi fatto una brutta influenza. E siccome è morta della gente in cause insomma strane, ieri abbiamo pensato con mia figlia di prenotare una visita da un ematologo. Per fortuna alla Fornaca mi hanno già visitata stamattina e mi hanno fatto fare, mi faranno fare tutta una serie di accertamenti al sangue. Ma diciamo che la diagnosi è una sorta di infiammazione post vaccino. Io ho sentito come una bomba che era scoppiata dentro, una roba... Per fortuna non ho patologie per cui forse tiro avanti con qualche tachipirina perché non posso prendere antinfiammatori. Comunque adesso mi hanno dato degli integratori fortissimi. Poi devo fare questi esami del sangue e adesso devo anche cercare di prenotarli senza passare dal medico perché la mia dottoressa nel frattempo non alza più il telefono, non risponde. Infatti per evitare Ciriè, dove è pieno di Covid, stamattina sono andata alla Fornaca e ho speso 250 euro per una visita ematologica. Questo è quanto. Io ho solo paura a fare questi esami del sangue, solo quello. Il resto va. Ciao Carmelina.